Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi video lezione dedicata alla vita di Nicolò Ugo Foscolo. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate con i miei diari di Charlotte. Nicolò Ugo Foscolo, conosciuto da tutti come Ugo Foscolo, nasce nel 1778 a Zante. La famiglia è di origine veneziana da parte di padre, in quanto il padre di Foscolo è un medico veneziano, mentre è greca da parte di madre, infatti la madre di Amantina Spatis era proprio originaria della Grecia. Nel 1785 però Ugo Foscolo si trasferirà in Dalmazia, precisamente a Spalato. Vedete qui la cartina, le cartine, giusto per orientarvi dal punto di vista geografico. Quindi questi sono i territori di cui parliamo. Quindi inizialmente una fase della vita, Foscolo la trascorre alla sua infanzia in Grecia e poi a Venezia. Come mai? Perché suo padre nel 1788, quindi quando Foscolo è molto piccolo, muore. E dunque la famiglia si trova in serie difficoltà economiche. La madre verrà trasferita, quindi si trasferirà a Venezia, mentre Foscolo in un primo momento rimarrà a Zante con una zia, ma poi anche lui raggiungerà la famiglia nel 1793 a Venezia. Oltre al greco moderno, quindi Foscolo inizia a studiare, naturalmente ad apprendere l'italiano, il latino e anche il greco antico. Per quanto riguarda la sua cultura e la sua formazione, Foscolo è un ammiratore di Parini, di Alfieri, di Rousseau, di Goethe e di McPherson. A proposito di Parini e Alfieri abbiamo dedicato delle video lezioni, quindi vi invito a recuperare la playlist dedicata alla letteratura di quarta che vi lascio qui. Inoltre è un sostenitore della rivoluzione francese e del giacobinismo. Si avvicinerà per quanto riguarda la matrice e l'interesse filosofico a Hobbes e anche a Machiavelli. L'idea soprattutto che abbraccerà sarà quella dell'uomo in quanto malvagio originariamente, quindi l'uomo che è il lupo all'altro uomo, l'idea che avevano i giusnaturalisti di fatto, della guerra di tutti contro tutti. Nella sua formazione naturalmente ha anche un ruolo importante la lettura di classici greci e latini e anche la sua visione filosofica, potremmo dire, in quanto è piuttosto materialista e nega l'idea di una trascendenza, potremmo definirlo un ateo di fatto. Quindi Foscolo sviluppa sin da adolescente un interesse, una propensione per la letteratura e inizia anche a scrivere le sue prime opere poetiche. In particolare scriverà una tragedia ispirata dal noto tragediografo Alfieri, Tieste, che metterà anche in scena. Questa tragedia racconta lo scontro tra Tieste e suo fratello Atreo per il trono di Argo, peraltro Atreo dovrebbe farvi subito pensare al patronimico Atride e quindi all'epica omerica, in particolare all'Iliade, al premio dell'Iliade. In ogni caso Foscolo a Venezia, dato che Venezia è una città cosmopolita, si fa conoscere e inizia anche a frequentare i salotti veneziani, frequenta anche il salotto di Isabella Teotocchi Albrizzi, di cui diventa l'amante, avrà numerose donne, Foscolo nel corso della sua vita. Donne che avranno anche una certa influenza, infatti grazie a Isabella Teotocchi Albrizzi, e conoscerà personalità influenti come Melchiorre Cesarotti, il traduttore dei canti di Ossian di MacPherson, e anche Ippolito Pindemonte, nome che ci dobbiamo ricordare, in quanto dedicatario dell'opera dei Sepolchri, che è un'opera celeberrima di Foscolo. Nel 1796, questa data dovrebbe accendervi un campanello, perché parliamo delle campagne napoleoniche, quindi Napoleone discende in Italia e Foscolo è un ammiratore della rivoluzione francese, come abbiamo già detto, dunque viene sospettato per le sue posizioni e lascia la città. Lascia la città e va a soggiornare in un ambiente che per me è bellissimo, quello dei Colli Eugani, vicino a Padova. Quindi l'ambiente dei Colli Eugani è un ambiente verdeggiante, rurale, e qui inizierà a progettare, a immaginare il soggetto del suo romanzo più importante. Ci torneremo, stiamo parlando delle ultime lettere di Jacopo Ortis, che peraltro si aggancia anche ad un fatto di cronaca, ma ne parleremo nel video dedicato, che vi lascio qui. Nel 1797 le armate napoleoniche arrivano a Venezia. Foscolo fugge, fugge Bologna, e decide di arrolarsi nella Repubblica Cispadana e compone l'ode a buona parte liberatore, quindi è un ammiratore di Napoleone Foscolo in una prima fase. Poi però ne sarà profondamente deluso. E quando questa delusione avrà inizio? Con il trattato di Campo Formio o Campo Formido. Siamo il 17 ottobre 1797. Con questo trattato, di fatto, Napoleone fa un gesto che per Foscolo è imperdonabile, ovvero cede Venezia all'Austria. Quindi Foscolo è profondamente deluso dalla politica e decide di spostarsi a Milano, nella Repubblica Cisalpina. Diventa qui amico di Vincenzo Monti e anche proprio di Giuseppe Parini. Poco tempo dopo pubblica la prima parte delle ultime lettere di Jacopo Ortis e alcune poesie. Si arrolerà anche nel 1799 per difendere la Repubblica Cisalpina e diventerà anche capitano. Tuttavia verrà poi ferito a una gamba. Inizierà quindi poi a spostarsi tra Bologna, Firenze, Livorno e Genova. Ed è a Genova che compone un ode. Noi per quanto riguarda la produzione di Foscolo la dividiamo tra le odi e i sonetti e poi tante altre produzioni che andremo ad analizzare. Però sicuramente sono importanti i sonetti e le odi. E per quanto riguarda le odi, la prima che citiamo è a Luigia Pallavicini, caduta dal cavallo, che pubblica nel 1802. Questa nobile donna, nota per la sua bellezza, si è sfregiata facendo la mazzone a cavallo e Foscolo le dedica un ode. Nel 1800 Foscolo continua la sua carriera politica, infatti dopo la vittoria francese a Marengo è coinvolto in diverse missioni in Toscana. Conosce qui un'altra nobile donna, Isabella Roncioni, che espirerà proprio Teresa dell'Ortis, quindi l'amata di Jacopo. Nel 1801 però un'altra morte scuote la vita di Foscolo. Questa volta è la morte di suo fratello Gian Dionisio, il quale probabilmente si è suicidato. La morte di Gian Dionisio, che lui ricorda del sonetto e morte del fratello Giovanni, è un momento molto difficile per Foscolo, in quanto è una morte un po' misteriosa. Ne parleremo in modo più approfondito quando analizzeremo questo sonetto, però qui possiamo già leggere questa testimonianza. L'anno 1801 era primo tenente, quando perduta in Bologna una discreta somma al gioco, si fece prestare il denaro da un sotto ispettore, che lo tolse dalla cassa di guerra. Denunziato poi come ladro, scoperto l'ammanco, non potendo colmarlo per evitare il disonore di un processo, fuggì a Venezia dove si uccise. Quindi questa morte resta un mistero, perché da una parte abbiamo delle testimonianze che ci dicono che sia una morte naturale, d'altra parte invece probabilmente è morto a causa del gioco d'azzardo e quindi degli ingenti debiti che aveva contratto il fratello di Foscolo e non sapeva più come pagare. A Milano Foscolo incontra una nuova amante, una nuova donna sempre sposata, Antonietta Fagnani Arese, alla quale dedicherà anche un'ode all'amica risanata. Nel 1803 Foscolo traduce e volgarizza la chioma di Berenice, di Callimaco, infatti sappiamo che Foscolo oltre a sapere il greco moderno conosce il greco antico, e poi si sposta in Francia. Avrà anche una relazione con una profuga inglese, Sophia Hamilton, da cui avrà la figlia, la figlia Mary, che lui però chiama Floriana. Nel 1806 incontra Manzoni, proprio a Parigi, e nel 1807 dedica Ippolito Pindemonte quest'opera importantissima, ovvero Dei Sepolcri, un carme. Nel 1808 Foscolo non si occupa più di politica, bensì si occupa di letteratura, nel senso che inizia ad insegnare a Pavia. Tuttavia poi però questa cattedra viene soppressa e quindi perde il posto di lavoro. Continua nella sua stesura di poesie, di prosa, di tragedie, anche della Iace stesso, che però sarà una tragedia che gli darà un po' del filo da torcere, in quanto le repliche verranno soppresse dal governo napoleonico, in quanto ritenevano che ci fossero delle allusioni proprio a Napoleone. Nell'ultimo atto, peraltro, c'è un'ovazione, o Salamini, che determina proprio le risate del pubblico e quindi compromette il successo di una tragedia in cui non si dovrebbe proprio ridere di gusto. Nel 1812 Foscolo inizia a scrivere le grazie dedicato proprio alle tre grazie e intesse una nuova relazione con una nobildonna. Sempre in questi anni scrive altre opere, traduce il viaggio sentimentale di Stern, scrive la notizia intorno a Didi Mochierico, che è una sorta di anti-Ortis, e anche l'ultima delle sue tre tragedie, la Ricciarda. Quindi le sue tragedie sono Tieste, Agliace e Ricciarda. Nel 1813, però, Napoleone viene sconfitto all'Ipsia e quindi Foscolo può tornare a Milano. Gli austrici, peraltro, gli propongono di dirigere una rivista, ma lui per coerenza rifiuta. Dal 1815, infatti, va in esilio in Svizzera e poi trascorrerà l'ultima parte della sua vita a Londra, a Londra, dove non se la passerà per nulla bene. In questo periodo scrive anche l'Ipercalisse, che è una satira contro i letterati milanesi, nella quale dice proprio Populus Mediolani Asinus. Quindi mi pare abbastanza lampante la sua idea dei milanesi. Nel 1816 stampa le ultime lettere dello Jacopo Ortis a Zurigo e poi a Londra nel 1817. Inizierà anche qui a elaborare un'altra opera, ovvero il Gazzettino del Belmondo su costumi e letteratura che rimarrà incompiuta. Si spegnerà in miseria nel 1827 a Londra dopo aver scritto una lettera apologetica. Questa lettera apologetica è una opera importante in quanto è un testamento politico e intellettuale di Foscolo e vuole proprio in questa lettera difendersi dalle accuse che gli sono state mosse dagli stessi letterati milanesi, quindi anche dalle critiche stesse che aveva ricevuto. Darà anche un'interpretazione del quadro politico dell'epoca e inoltre si proporrà come una sorta di eroe romantico, mosso quindi da sentimenti puri e assoluti. Noi abbiamo parlato del romanticismo in questo video che vi lascio qui. Foscolo merrà in Londra in miseria, poi però riuscirà a tornare nella sua terra. Infatti, le sue spoglie sono tuttora a Santa Croce tra le spoglie dei grandi. Dopo la sua morte sarà anche pubblicato il sesto tomo dell'Io che è un obbozzo di romanzo autobiografico nel quale voleva raccontare un anno della sua vita, il momento di militanza tra Bologna e Genova. Ci vediamo alla prossima video-lezione dedicata alle ultime lettere della Oiacopo Ortis. Grazie a tutti.